e appunto stanno hanno canterizzato l'area e niente stanno tagliando io alberi già abbattuti cosa significa che so che non lo stai in piedi l'albero è vivo no 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 non è albero a terra no no questo è l'albero che vivo e stanno potando questi rami insomma non fosse oggetto di scavo quindi qua sotto non fanno lavori si fermano qua si fermano qua potevo pure essere un metro in meno hanno bypassato gli alberi quindi questa parte qua diciamo è tutelata dai lavori quindi questi alberi non si toccano quattro cinque e poi c'è quell'altro che non è un leccio che si chiama quindi quanti sono sono sei gli alberi non toccano se non si toccheranno il problema poteva esserci per quelli all'interno va bene questi qua all'interno questa cicas sono piante si spostano si possono fare bassi bravo già di niente questo già è morto l'ho visto io adesso quella che vediamo verde è la pianta che sta nel confine a fianco non è sua e non la può toccare questa magnolia può essere spostata e quindi lui ha preso questo impegno di non uccidere queste pianta ma di spostarle a secondo quel progetto di come varranno l'arredo verde sopra quello che ci interessava a noi stamattina erano questi ora facciamo che cosa le foto le video io faccio diventare adesso una sorta di presentatore una dichiarazione sua è molto forte ve la faccio il video ve lo faccio però la voglio fare allora sotto all'albero mi sembra voluto devo metterlo davanti alla caccia faccio tardi sotto all'albero ciao Grazie a tutti.